Ciao amici di YouTube, anni fa avevo seguito una ragazza che soffriva di anoressia e le avevo aiutata molto avvicinandola a un'alimentazione vegana che non ingrassa, è detox e spesso è ben accettata in queste situazioni. Poi parlando con lei abbiamo approfondito certi argomenti e la sua risposta era stata una lettera scritta a mano con una bella grafia piena di ringraziamenti dove però a un certo punto mi scriveva così, Simona ti ringrazio per quello che hai fatto per me, seguirò sempre i tuoi consigli e farò quello che mi dici, tu puoi chiedermi qualunque cosa ma non chiedermi di essere felice. Non ho mai dimenticato queste parole, forse lei non lo sa e non lo ha mai saputo ma per me è stato un enorme spunto di riflessione intensa e prolungata. Nel tempo ho capito che attraverso di lei e la sua sofferenza mi era stato fatto un regalo senza prezzo. Ora desidero condividerlo con tutti voi. Ci ho riflettuto tanto per me stessa e per chi viene ai miei corsi. Mi sono chiesta perché ci sia così poca felicità in giro e alla fine volete sapere cosa ho pensato? Certo, che domande, altrimenti non ero qui a guardare il video. Giusto, ecco la mia sintesi. La felicità è una rivoluzione, la più grande rivoluzione possibile per il genere umano. Nessuno ci educa alla felicità, difficilmente vediamo esempi di felicità a cui ispirarci. Anzi, ci sentiamo in colpa quando siamo felici. Io appena sono felice mi preoccupo, ho paura che mi arrivi una sfiga terribile. Eccola lì, sì, per questo saper vivere nella felicità è un atto rivoluzionario ed è il miglior antidoto antisfiga. Ma sei sicura? Se lo dici tu però. Sì, posso dirlo perché ho imparato il segreto per raggiungere la felicità e oggi voglio condividerlo con voi. Ma prima mettiamoci d'accordo sui termini. Cosa vuol dire felicità? Eh Simona, ci risiamo con le tue solite domandone. Eh, bisogna essere certi che stiamo parlando della stessa cosa. La felicità è la gioia che proviamo quando facciamo qualcosa che ci piace, ci fa esprimere e ci dà soddisfazione a lungo termine. Se non dura, non è felicità. Stare spaparanzati al sole, in vacanza, senza fare niente, è piacevole al momento, ma a lungo termine diventa noioso, è troppo caldo, devi fare qualcos'altro. Non dà la vera felicità perché non ci fa esprimere e non ci migliora. Siete d'accordo sulla definizione? Allora andiamo avanti. Ma prima fatemi felice, mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. E ora ecco il mio segreto. Per essere felici bisogna iniziare a mettere la felicità al centro e poi organizzare e costruire la vita in funzione di una felicità a lungo termine. Insomma, la felicità deve diventare il principio che organizza la nostra vita. Essere felici non significa essere egoisti. Davvero? Senza sentirsi in colpa? Sì, certo. Cosa c'entra la colpa con la felicità? Avete mai pensato che la felicità esiste da sempre dentro di noi? Perché nasce con noi. Ognuno ha una dotazione di felicità dentro di sé e non la trova nelle cose esterne. Perché la felicità non si scambia e non si compra. È già dentro di noi. Ma proprio perché è dentro bisogna capire come connettersi e attivare questa parte di noi. E c'è solo un modo per farlo. Volete davvero sapere qual è? È semplice ma non è scontato. Bisogna sapere ascoltare il proprio cuore. Ma scusa, sento sempre dire che bisogna ascoltare il cuore. Ma mica parla? Come si fa? Forse gli altri lo sanno, ma io no. Stai tranquilla, non sei l'unica. C'è un maestro orientale che lo ha capito meglio di me e ha scritto così. La mente urla, il cuore sussurra. Ascoltare il sussurro del cuore vuol dire restare in contatto con i sentimenti, osservare e sentire quello che i sentimenti ci dicono dentro. Se ascoltiamo sempre la voce interiore sapremo capire se una situazione, un lavoro, una relazione, un progetto ci rendono felici o meno. E ascoltando potremo decidere di organizzare la vita in funzione della felicità. Certo ci vuole qualche strategia e a questo servono i miei video. E per vederli tutti basta iscriversi al mio canale con un clic. Facile. E attivate le notifiche. Tutti possono decidere di vivere felici. Sono sicura che vivremo tutti in un mondo migliore. Voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti qui sotto. E fate come me. Diventate portatori sani di felicità. Condividete questo video sui vostri social e con i vostri amici. E se non lo avete già fatto iscrivetevi al canale con un facile clic e attivate le notifiche. Noi ci vediamo al prossimo video naturalmente. Ciao. Io appena mi sento felice mi preoccupo. Ho paura che mi arrivi una sfiga terribile.